Di fronte Pescara e Fermana, primo turno di Coppa Italia, Massiccio turnover, debutto assoluto per Cioci Staver che abbandonerà il proscenio al 26esimo e Di Pasquale dal primo minuto, Mora e Vergani, dunque 4-3-3 con solito e collaudato, risponde la Fermana con lo stesso sistema di gioco davanti Grassi, Montini e Etilli. Siamo proprio nelle battute iniziali della partita, la Fermana passa in vantaggio dalla distanza, il calcio di punizione di Fontana non è piazzato, ha fatto bene Cioci che viene sorpreso, Fermana in vantaggio, 1-0 al 21esimo, il gol di Fontana, il vertice basso del triangolo di centro capo della squadra allenata da Andrea Bruniera, abbiamo rivisto il calcio di punizione di Fontana, classe 2000 italo-venezuelano. Lo scorso anno, seconda parte dell'ultima stagione nel Tarato, qui guardate che azione, un'azione fantastica, strepitosa di Manu che si permette anche il lusso, si concede il lusso di effettuare il tunnel e i danni di Pistolesi, maglia numero 3, il terzino della Fermana, guardate, il tunnel e poi il sinistro a incrociare. Nulla da fare per il portiere Furlanetto, un grandissimo gol, gol capolavoro di Denis Manu, classe 2003, lo scorso anno era la Matera in serie D, il primo gol, la prima rete tra i professionisti. Siamo al 38esimo minuto, è un'altra magia questa volta di Cangiano, è stato il migliore in campo insieme con Manu, la punizione che si era guadagnata proprio Vergani, che ha fatto anche una discreta prova. Il calcio piazzato di Cangiano, il suo destro, il secondo gol con la maglia biancazzurra dopo la rete, realizzata con l'Arezzo di testa. Siamo sul 2-1, dunque ribaltata la situazione dal Pescara, il colpo di testa di Forte, il salvataggio sulla linea di Milani. Forte, maglia numero 6, siamo nel secondo tempo, rischia un po' il Pescara, però attenzione, 52esimo. Cangiano alza la testa, la pennellata per la testa di Manu che sigla la sua doppietta personale. Siamo sul 3-1 al minuto 52, al settimo della ripresa, guardate, serie di fitte di Cangiano, il suo assist mirabile, colpo di testa di Manu. Doppietta per l'Italo-Gamese, classe 2003, siamo al settimo minuto nel corso della ripresa, non ci sarà più partita. La pressione alta di Manu che ruba palla a un difensore, poi molto altruista. L'appoggio per Tommasini che aveva rilevato Vergani, prima rete con la maglia biancazzurra, per l'ex giocatore del Taranto, ex attaccante del Pisa, di proprietà del Pisa. Ora naturalmente a titolo definitivo al Pescara. Siamo al settantesimo, 4-1, si continua ad attaccare il Pescara. Ora c'è questo destro di Accornero che aveva rilevato, sostituito un minuto prima Cangiano. Dunque 5-1, ha referto anche Accornero, maglia numero 11, classe 2004, in prestito secco dal Genoa. Un bel gol, palla in buca d'angolo. E poi c'è questo calcio di rigore sulla sovrapposizione di Milani. Si oppone con il braccio fort, l'arbitro, allegretta della sezione di Molfetta. Indica il dischetto tra le proteste della squadra ospite, la squadra marchigiana di Andrea Brugnera. Su un punto di battuta Merola che aveva rimpiazzato Masala al trettatresimo. Un po' fortunato, non è proprio impeccabile l'esecuzione Merola, ma il pallone termina le spalle. del semodifensione della fermana Furlanetto, 6-1 all'ottantunesimo. Rivediamo l'esecuzione di Davide Merola, praticamente vanno a segno tutti gli attaccanti, tranne Vergani che però insomma si era mosso bene, tranne Masala che aveva giocato fino al trettatresimo della ripresa. Tre minuti di recupero, tre minuti di recupero anche nel primo tempo, in totale sei. Finisce 6-1 per il Pescara, un Pescara che ha travolto la fermana. Vittoria debordante.